Maggi con noi? No, ma vengo a tavola. E dopo? Torni qui? Dipende, ci provo. Dipende da che cosa? Da come vanno le cose con lei. Sono troppo buona. Che vuoi dire? Troppo moderna. Dovrei romperti le palle come le donne normali. Ti preferisco come sei. Ah, non ho dubbi. Dovrei comportarmi da vera amante. Oh, Enzo, sono molto triste. Comprami una pelliccia e una collana di diamanti. Piero! Siediti.